Matteo Melchiorre, Paolo Malaguti, Tiziano Fratus, questi alcuni dei grandi ospiti che prenderanno parte al Mese del Libro 2023, rassegna culturale organizzata dal Comune di Alpago e curata dal giornalista Ezio Franceschini. Il Mese del Libro Alpago diciamo che fondamentalmente ha una doppia valenza. Da un lato è quella di far conoscere a noi, insomma, i bellunesi, gli scrittori, le loro opere e anche portare argomenti di attualità nel territorio. E dall'altro però è anche quello di far conoscere a questi autori, a queste persone che vengono da fuori, la bellezza del nostro territorio e tutto quello che il territorio contiene. Il programma, in partenza il 15 settembre, sarà preceduto da un'anteprima nella serata del 25 agosto e comprenderà tra gli altri due appuntamenti particolari. Quest'anno è la dodicesima edizione del Mese del Libro Alpago. Avrà un'anteprima con Antonia Arslan, che presenterà Il Destino di Agavanni, il suo ultimo libro delle edizioni Ares, e poi inizieremo il 15 settembre con gli scrittori e tra gli appuntamenti abbiamo anche altri due incontri molto importanti. Uno riguarda i ricordi di Eugenio Padovan, l'archeologo scomparso da poco tempo, insomma, che con l'Alpago aveva un rapporto molto particolare. E un altro appuntamento importante riguarda Francesca Mannocchi, che è inviata di La Sette sul Teatro di Guerra dell'Ucraina. E diciamo che questo appuntamento richiama quello dell'altro anno, a cui abbiamo invitato Tony Capuozzo. L'omaggio a Eugenio Padovan sarà anche occasione per presentare un importante progetto redatto dal Comune di Alpago. Nell'ambito di questo incontro, oltre a ricordare la figura di Eugenio, andando a ripercorrere un po' tutto quello che ha fatto in questi anni, daremo anche in anteprima, mostreremo il progetto della Sala Museale, che verrà realizzato all'ultimo piano del Municipio di Pieve, e che dovrà accogliere appunto i reperti che durante tutti questi anni sono stati raccolti.